Amici carissimi, continuo il discorso che ho lasciato interrotto, che il telefonino ha finito di registrare. E vi dicevo che incomincia l'esilo di Dante e cerca con tutti gli altri fuoriusciti bianchi di poter tornare a Firenze. Quindi vanno da un certo capitano di Ventura, molto famoso per quel tempo, Scarpetta degli Ordelaffi, per poter tornare a Forlì, per poter organizzare un'impresa, l'impresa di tornare a Firenze. Ma questa impresa fallirà miseramente e Dante lascerà quindi la compagnia malvagia e scempia, come dirà nel canto XVII del Paradiso, al suo trisavolo Cacciaguida. Intanto la guerra fra papato e re di Francia, Filippo IV il Bello, il Bello si fa sempre più serrata e culminerà poi con l'oltraggio dello schiaffo di Anagni. Il Papa fu umiliato e poco dopo morì. Ecco, qui dobbiamo ricordare il canto XX del Purgatorio, dove Dante rievoca questo episodio e dimostra come fosse grande l'interesse di Dante per la Chiesa e per il rappresentante di Cristo in terra, il Papa. Al di là dei contrasti umani che ci potevano essere stati con Bonifacio VIII, non giustifica Dante il gesto dell'offesa rivolta a Bonifacio VIII. Bonifacio VIII infatti, Bonifacio VIII fu preso da Guglielmo di Nogaret e gettò il guanto in segno di sfida, quindi mancanza di rispetto. E Nogaret era stato inviato da Filippo IV il Bello e da Sciarra Colonna che vedeva di manocchio proprio Bonifacio VIII. Fu in Anagni dove si era rifugiato e non solo fu catturato il Papa, ma anche tutto il tesoro della Chiesa fu preso. E questo è un fatto molto grave per Dante. Dante qui ha dei versi veramente sentiti che vale la pena di leggere, dal ventesimo canto del Purgatorio. Il tesoro canto del Purgatorio. Che ciò lo sazia ma senza decreto porta nel Tempio le cupide vele. Ecco allude il nuovo Pilato e Filippo IV il Bello, ecco che si impossessa, decreta la vita e la morte e soprattutto di un Papa. Ecco, grandi versi, di grande importanza anche morale. E poi quel successivo Papa, il nuovo Papa Gregorio XI, aveva molta forza, quindi era piuttosto debole, non seppe tutelare la pace. E quindi ci fu sempre questa guerra fra Papato e Firenze e nel resto anche dell'Italia. Nel successivo Papa Clemente V, ecco che veramente fece un volta faccia piuttosto grave. L'ultimo tentativo di Dante e dei fuoriusciti fu quello della Val di Lastra, nella Val di Mugnone vicino Firenze e che finì nel sangue. Dopodiché Dante desiste dal tornare a Firenze e decise di non tornarvi mai più. Il primo rifugio e il primo stello, dirà Dante. Dante lo trovò a Verona, presso gli scaligeri, da Bartolomeo prima e poi dal fratello Albuino che li succedette nel 1304. Quindi sono gli anni, gli anni dal 34 al poi, che incomincia ad essere un viandante perpetuo Dante, che cerca disperatamente un posto sicuro e soprattutto fidato, perché era mal visto. La gente, ecco si serviva per la sua cultura, però ecco lo temeva anche perché la sua giustizia, il suo senso dell'onore, ecco poteva anche risultare scomodo per i signori trafficanti. Ripose in lui molta fiducia, fiducia soprattutto in Can Grande della Scala. Can Grande della Scala era il figlio di Bartolomeo e si dimostrò molto amico di Dante, tanto che Dante per onorarlo gli volle dedicare quello che riteneva più importante della sua opera. Addirittura il canto con relativo commento, il primo canto del paradiso, che è importantissimo perché è un po' la sintesi e l'importanza di tutta la commedia e la dedicò proprio a, la donò, la dedicò con manoscritto a Can Grande della Scala. E voglio leggere le parole di Dante nell'epistola, la tredicesima epistola, tredici epistole lettere scritte tutte in latino e questa è l'ultima. Stimando dunque la vostra amicizia come un preziosissimo tesoro, desidero conservarla con diligente previdenza e accurata sollecitudine. Pertanto, poiché nei principi della filosofia morale si insegna che l'amicizia è ugualiata e conservata con una proporzione, desidero osservare la proporzionalità con rendere per i benefici più di una volta largiti e per questo molto esaminato di frequente i miei piccoli doni. E li ho separati l'uno dall'altro e una volta separati li ho vagliati cercando il più degno e il più gradito per voi e non ho trovato di più conveniente alla vostra eccellenza che la sublime cantica della commedia che si fregia del titolo di Paradiso. E' dedicata con la presente lettera quasi sua propria dedicatoria, ve l'intitolo, ve l'offro, infine ve la raccomando. E quindi dedica e spiega sempre in questa lettera il motivo della commedia. Il titolo del libro, della commedia, incomincia la commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi, alla cui comprensione si deve sapere che commedia si dice da comos, contado, e oda, che è canto, onde commedia è quasi canto rustico. E la commedia è un genere di narrazione poetica diverso da tutti gli altri, differisce dunque dalla tragedia nella materia, in quanto la tragedia è al principio ammirabile e placida, alla fine o conclusione fetida e orribile. E perciò è detta quasi così da Tragos, che è capro, e oda quasi canto caprino, cioè fetido, a guisa di capro, come chiaro da Seneca nelle sue tragedie. La commedia poi introduce l'acerbità di alcuna cosa, ma la sua materia termina prosperamente, come appare da Terenzio nelle sue commedie. E di cui alcuni scrittori pressero l'abitudine, nelle loro salutazioni, di dire invece del saluto tragico principio e comica fine, e fine, diranno invece che ecco questa c'è una comica fine, quindi una fine bella. E perciò è chiaro che la presente opera si dice commedia. Infatti se guardiamo la materia, è orribile, fetida, al principio, perché inferno, prospera, desiderabile, accetta, alla fine perché paradiso. Al modo di esprimere, è il modo piano e umile, perché lingua volgare in cui discorrono anche le donnette. E usa un termine, ecco il latino, muliercule, che significa le donne del popolo, ma non è un termine dispreggiativo per Dante, perché voleva dire che la sua commedia, la sua poesia, deve essere involgare, perché deve essere compresa da tutti, quindi il linguaggio è semplice, però deve arrivare a tutti i cuori, a tutti i ceti, a tutti gli uomini. Ecco, questo è importante, il concetto, il concetto di Dante. E quindi poi Dante, dopo Verona, dovette allontanarsi, perché con il fratello Alboino non andò d'accordo, perché non ne aveva capito la grandezza Alboino, addirittura forse era un po' invidioso di Dante. Allora Dante fu ospite poi a Treviso, presso Gerardo da Cammino, e di lì poi andò a Padova, dove ebbe modo di conoscere Giotto, che lavorava nella Cappella degli Scrovegni, e quindi a Venezia, a Reggio Emilia, presso Guido da Castello, e ce ne parla nel Purgatorio nel Canto XVI. Nel 1306 è ospitato, ancora da un Maraspina, però da Francesco, e andò poi a Sarsana, provincia della Spezia. Sarsana perché doveva, come procuratore del Marchese Maraspina, doveva firmare un trattato di pace con il Vescovo di Luni. C'era stato tutto un contrasto per il possesso di terreni fra il Marchese e il Vescovo. Per qualche tempo fu anche a Lucca, dove una gentildonna di nome Gentucca, che ricorderà nel canto XXIV del Purgatorio, renderà più lieve la sua solitudine di esule. Gli anni 1310-1313 furono di grande ansia, di grande speranza e di grande delusione, in quanto seguì l'impresa di Arrigo VII. Di Arrigo VII. Arrigo VII, Arrigo di Ossemburgo, scendeva in Italia per essere incoronato imperatore e voleva appunto proteggere Firenze dall'invasione degli Angioini. Il papa Clemente V, che lo elesse imperatore, lo incoronò, però aveva poi assecondato Enrico VII all'inizio, ma poi invece temendo le reazioni già ghibelline di Firenze e di altra parte dell'Italia, oppone all'imperatore il re Roberto d'Angio di Napoli, quindi preferisce la politica angioina. Enrico VII, con l'aiuto del re Federico di Sicilia, arrivò a Napoli proprio per sconfiggere Roberto d'Angio, ma a buon convento, morì forse avvelenato, il 24 agosto 1313. E incomincia la delusione. Dante è veramente ora stanco, sta perdendo la sua fiducia, sta perdendo ogni speranza e si rifugia sempre più nella fede. E ci vale la pena leggere qualche verso che scrive in questo periodo Dante, e sono alcuni salmi che non sono i salmi, quelli biblici, ma salmi suoi. E io voglio leggervi qualche verso. O Dio eccelso sopra gli altri dei, fa sì che io senta la tua volontade, perché tu sol mio Dio e Signor sei. De, fa, Signor, che la benignità del tuo Spirito Santo mi conduca nel diritto cammin per tua bontade. Se come spero tu sarai mio Dio, io so che viverò per sempre e mai deposta vita all'abile caduca, ma pur bisogna che da questi guai e tribolazioni tu mi cavi come più volte per pietade fai. Quindi, sì, ecco, si raccomanda a un intervento quasi divino. E ora, ecco, dobbiamo cominciare a parlare anche della grande opera, quella latina, del De Monarchia. Ma perché Dante, ecco, scrisse il De Monarchia? Qual era il pensiero politico di Dante? Dante si era reso conto che la soluzione di pace non poteva essere cercata a Firenze, perché si trattava di restaurare soprattutto le due autorità costituite da Dio per la salvezza del genere umano, l'impero e il papato. Al di sopra di ogni offesa, patita, è l'amore per la giustizia che si afferma nell'animo del poeta e che gli fa dire l'esilio che mi è dato, onor mi degno. Sono versi tra i donne intorno al coro, mi sono venute. Ecco che l'esilio che mi è stato dato e che mi opprime, io lo ritengo un onore per la mia dignità e per il mio senso della giustizia. Si trattava per lui di riportare su un piano più vasto, universale, l'esigenza della giustizia e della redenzione morale degli uomini. Mancava, secondo Dante, nell'età comunale, un'autorità che si levasse sulla confusione economico-sociale, sull'atomismo, sulla dispersione, la divisione anche dei territori. Occorreva che l'autorità religiosa fosse fondamento di pace e di ordine nel mondo. Già Aristotele, nell'etica nicomaco, aveva parlato di una beatitudine della vita attiva, politica, consistente nella pratica della virtù, ma al di sopra di essa aveva posto la beatitudine connessa con la contemplazione filosofica. Dante accetta senza discutere il principio aristotelico secondo il quale la ragione umana può raggiungere la propria perfezione e la felicità su questa terra e sostiene che il fine ultimo dell'uomo consista nella vita contemplativa e che il bene lo si conosce attraverso l'amore, che è il primo impulso dell'animo, secondo Sant'Ommaso d'Aquino. Ma cosa ha spinto Dante a scrivere il De Monarchia? Nel 1302 Bonifacio VIII con la sua bolla Unam Sanctam aveva fatto un'alta proclamazione dell'autorità del Papa sui principi e rei della terra. Sorse un acerbo dibattito sulla scia dell'averroismo presente nella cultura del tempo, circa la distinzione aristotelica fra ragione e fede, fra mondo naturale e mondo soprannaturale. Cos'era l'aristotanismo? Era un insieme di dottrine che avevano avuto per tutto il 1200 una diffusione e un peso preminenti nel mondo cristiano. Aristotele fu commentato prima da Vicenna, poi da Verroè, che erano arabi, che conoscevano il greco, erano usciti, erano anche sufi, quindi cercavano un punto d'incontro fra islamismo e la cultura greca. E secondo i quali l'intelletto separato dall'organismo corporeo, individuale, unico per tutti gli uomini, che l'anima c'è però muore con il corpo e la materia è abeterna, cioè non c'è stata una creazione. Sant'Alberto Magno, che allora insegnava la Sorbonne di Parigi, e Sant'Omaso, suo allievo d'Aquino, decisero di riesaminare il corpus aristotelico e si persuasero che la filosofia non poteva essere in contrasto con le verità rivelate. Sant'Omaso voleva essere il dottore della Chiesa, il maestro della dottrina cristiana, Cioè Sant'Omaso mise ordine, ordine a quella confusione che la Veroiso aveva portato, e soprattutto difese i dogmi della fede cristiana, che sono la creazione, l'incarnazione e la risurrezione, la risurrezione dei corpi, quindi l'esistenza dell'anima. E quindi la filosofia può avere dei punti di incontro, però bisogna puntualizzare, e quindi diventa il grande teologo del cristianesimo, e tutta la Divina Commedia poi sarà pregna della sua filosofia. Ora, Dante comprese che esisteva una, la definisce lui così, infermitas peccati, cioè una malattia morale, alla base del disordine e della ingiustizia dilaganti sulla terra. Come rimedio di questo defectus, Dio aveva istituito fin dalle origini l'impero, che era venuto meno per colpa del re di Francia, del pontefice, dei comuni. L'impero romano non era nato dalla violenza, ma era stato voluto dalla provvidenza. Perché? Perché l'impero romano, nell'impero romano, nella sua compagine, che allora copriva tutto il mondo, ha conosciuto, in realtà è nato Gesù Cristo. Quindi è sotto l'impero romano, e quindi che nasce il Messia per gli ebrei, ma che nasce il Salvatore per i cristiani. E che quindi, ecco, Roma sarà poi la nuova Gerusalemme, perché Gerusalemme sarà poi distrutta da Tito. Nel terzo capitolo del primo libro, Dante cita Averroè per affermare che l'unità del genere umano nell'impero è necessaria per assicurare l'attuazione di un benessere collettivo. Il problema per Dante era quello di trovare un rimedio all'anarchia per salvare la pace. La sua era una visione di ordine religioso. Vi era in lui quasi un'ansia messianica. Nel secondo libro chiarì che l'impero del mondo per volontà divina aspettava a Roma, appunto perché era nuova Gerusalemme. Nel terzo libro dimostrò l'indipendenza dell'impero rispetto alla Chiesa. L'imperatore deve essere un lunto del Signore, cioè un'inzione come quella dei pontefici. Ma lo stesso Dante poi superò queste idee, ecco proprio con la commedia. Nella lettera indirizzata poi ad Arrigo VII ai Principi nel 1311, Dante si augurava che i regni tornassero alla Vergine, tornassero alla guida della cristianità, come meta, meta alla quale l'imperatore doveva mirare per guidare il genere umano. A questo proposito scrisse una bellissima Ave Maria, Ave Maria che io vi voglio leggere e che non è conosciuta, è conosciuta perché è conosciuta quella del canto del Paradiso, ma non questa Ave Maria. Ave Regina, Vergine Maria, piena di grazia, il Dio è sempre teco, sopra ogni donna benedetta sia, e il frutto del tuo ventre il quale io preco, che ci guardi dal mal Cristo Gesù, sia benedetto e noi ti riconseco. Vergine benedetta sempre tu, ora per noi addio, che ci perdoni e dia ci grazie a viversi qua giù, che il Paradiso al nostro figlio ci doni. Molto profonda è questa, questa preghiera. Dopo il fallimento di Arrigo VII, Dante, dalla sfera della lotta, dove passare a quella dell'appello alle forze soprannaturali. Il divino poema fu quindi la voce di una infinitamente diversa direzione dell'animo, circa la nuova visione del mondo. Grande fu la sollecitudine per la Chiesa da parte di Dante. Essa sola può dare la inquadratura, le norme, i segni entro cui può attuarsi l'umana restaurazione. A Marco Lombardo, nel canto sedicesimo del Purgatorio, Dante chiederà il motivo del disordine morale degli uomini, ed egli risponderà che la causa consiste nella mancanza di un buon reggimento, di una buona guida morale. Parlerà di due soli, l'impero e il papato. E che l'imperatore dovrà avere una sottomissione filiale nei confronti del Papa. Ma poi nel canto ventottesimo del Paradiso, vedremo che Materna dimostrerà a Dante che l'abbiatitudine si può raggiungere solo attraverso la sperges della Chiesa, cioè la benedizione della Chiesa, il consenso della Chiesa. C'è una felicità alla quale si arriva per mezzo degli ammaestramenti dello Spirito Santo. Grazie.